Sappiamo tutti che siamo in tempo di crisi e quindi proprio per non sprecare quel poco denaro che abbiamo bisogna fare degli acquisti davvero con grande cautela, soprattutto quando andiamo ad acquistare i prodotti a rate. Quante volte siamo per comprare un elettrodomestico, una macchina, la mobilia, siamo costretti a ratezzare l'importo, però in quel caso bisogna stare davvero con gli occhi molto molto aperti, bisogna stare ben attenti a prendere tutte le informazioni necessarie, bisogna controllare le percentuali del cosiddetto TAN e TAEG che sono due codici che misurano il tasso di interesse, perché spesso il TAN è zero, il TAN è il tasso annuale nominale, tasso annuale nominale e indica l'interesse calcolato su base annua indica il costo effettivo di un prestito, comprensivo di tutte le altre spese che dovete sostenere, interessi, spese, dilazioni nel tempo e così via. Quindi anche se il TAN ve lo propagano a zero è il TAEG che è molto importante. Quando trovate il vero tasso zero vuol dire che sia il TAN che il TAEG devono essere a zero, ma vi posso assicurare che sono rarissimi casi, forse quasi mai. Attenzione al cosiddetto compra oggi e paghi domani, perché poi ve la fanno pagare e chissà quanto, perché cominciare a pagare dopo sei mesi o dodici mesi non è un vantaggio, gli interessi partono dal giorno in cui voi fate l'acquisto, quindi quando pagate la prima rata a tre o a sei mesi già è comprensiva dei tre o dei sei mesi maturati nel tempo. Ricordatevi che avete sempre a disposizione il cosiddetto diritto di recesso, che sono esattamente 14 giorni per recedere dal contratto, anche se l'avete sottoscritto, firmato e quindi potete benissimo bloccare quel contratto se ci ripensate, se avete fatto un calcolo, se vi hanno, non dico estorto, ma insomma se avete messo una firma del contratto in maniera poco convinta, 14 giorni e potete tornare indietro. Il diritto di recesso vale anche per i prodotti difettosi e non consegnati. Poi vi do un ultimo consiglio, il pagamento a rate va usato solo per i prodotti che vi servono, che sono davvero utili, come per esempio il frigorifero, l'avete rotto, lo volete ricomprare, certo non si può stare senza frigorifero, ma attenzione a non comprare beni che non sono assolutamente necessari e addirittura pagarli a rate. Quindi il mio consiglio è sempre quello di acquistare le cose, gli oggetti, i prodotti avendo già i soldi, è la cosa migliore. Se poi volete fare l'acquisto a rate dovete cercare di spalmare il più possibile le rate perché così il pagamento mensile, trimestrale o semestrale, secondo le convenzioni che avete sottoscritto, si sente molto di meno. Ma mi raccomando, mi raccomando, prima di firmare qualsiasi cosa leggete sempre cosa c'è scritto e oltre a questo tutte le cose scritte più piccole sono quelle da leggere con maggiore attenzione. E adesso, visto che sono le 12.30, anzi le 12.35, buon pranzo a tutti.